Lo Sport in collaborazione con Pegaso annuncia 40 giorni di offerte. Finalmente tutta la qualità dei mobili artigianali veneti con sconti oltre il 30%. Pegaso a Bosco Marengo sulla strada statale Novi e Alessandria. Possibilità di finanziamenti all'interno del punto vendita. Da ottobre Novi Ligure ospiterà un nuovo campionato di calcio, quello della squadra femminile. La compagine si chiama Novese e vestirà i colori bianco e celeste. Il logo richiama molto da vicino quello del comune. Sfondo bianco-celeste, due grifoni che sollevano lo scudo con la croce di San Giorgio, con l'aggiunta di un pallone. La squadra milita in Serie B e giocherà allo stadio costante Girardengo. Da A qui il team che gestisce la società ha deciso di trasferirsi a Novi appena ne ha avuto la possibilità. E in panchina l'allenatore Giuseppe Morizzo Fossati che ha già maturato diverse esperienze alla guida di squadre femminili. La data ufficiale di inizio campionato è per domenica 2 ottobre. Il 21 di agosto, invece, è fissato il ritrovo al Circolo Ilva. Poi visite mediche e partenza per il ritiro a Cosola in Valborbera. Nella squadra ci sono nomi importanti, come il capitano Barbara Di Stefano e l'attaccante Arianna Montecucco. Entrambe hanno giocato per la nazionale Under-19. Dal 1984 mancava in città una squadra di calcio femminile. La società, inoltre, ha creato con il Circolo Ilva di Novi un settore giovanile e femminile. La risposta delle bambine per ora sembra buona. A settembre la novese entrerà anche nelle scuole facendo delle dimostrazioni e portando le titolari della prima squadra. Obiettivo di questa iniziativa è far capire che anche le ragazze possono giocare a calcio. Pegaso, a Bosco Marengo, sulla strada statale Novi e Alessandria. Possibilità di finanziamenti all'interno del punto vendita. Il meteo, in collaborazione con... Immaginate di essere in una piscina con spiaggia ed essere massaggiati e rinfrescati da un'effusione di bollicine d'aria. Immaginate una piscina naturale con acqua cristallina che impreziosisce il vostro giardino in tutte le stagioni. Vuoi saperne di più? Attendi qualche secondo. Piscine simili a laghi di montagna o a spiagge esotiche. Senza cemento armato, senza concessioni edilizie e con le detrazioni del 50%. Punto Fuoco le realizza tramite un processo costruttivo brevettato in 20 giorni. Vuoi saperne di più? 0131 89 44 03 Ovada, 10 settembre, ore 21, presso il palazzetto dello sport del J-Rino. Playing the History, esibizione di John Ackett, David Jackson e altri musicisti di altissimo spessore. Un grande evento musicale di levatura internazionale per lanciare immediaticamente il progetto Coltiviamo il benessere in Villa Gabrielli, coordinato dalla Fondazione Cigno e altre realtà del volontariato. Ovada, 10 settembre, Playing the History, con John Ackett e David Jackson. Info e programma completo su parcovillagabrieliovada.it Il parco acquatico Lavagello di Castelletto d'Orba vi aspetta da lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 18 e 30 e la domenica dalle ore 9 e 30 alle ore 18 e 30. Per info 0143 83 06 91 www.lavagello.it Info chiocciola lavagello.it